la intro ve la faccio ora fine giornata e niente secondo giorno con turisti tanta roba ora siamo in un come lo chiamavano il parco giochi che ora vedrete tutto si andiamo a fare un bel giro secondo me è un bel giro stamani e in confezza si allena il 15 marzo c'è la mia gara di allenamento della wisp e poi la non è il massimo non è il massimo Grazie a tutti. 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 Allora... Rieschio... 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 Che padella cazzo... Rieschio... 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 Rieschio...